Ciao amici di Men Wow! Benvenuti! Oggi procediamo a un nuovo unboxing di prodotti acquistati da un sito di cui già vi ho parlato, Sport & Shoes. È un sito made in New UK. Certo preferisco comprare in Italia, ma purtroppo per questo tipo di articoli prezzi migliori, davvero imbattibili, irresistibili, si trovano, si possono trovare solo in Inghilterra. Vediamo di cosa si tratta. Coltellino, forse avete già intuito, running e procediamo al nostro Omega Unboxing. Questa è una confezione in plastica, diciamo non è molto eco-friendly. Al più interno abbiamo uno. Wow! Sono proprio a pressione. Uno e due e ben tre prodotti. Amici di Men Wow! Abbiamo acquistato un po' di scarpe da running. Sauconi! Sì, perché Sauconi finora non mi ha mai deluso. Scarpe eccezionali vengono prodotti da questo marchio americano. E in più i calzini per la corsa e per l'ingegno e per l'attività sportiva, i migliori in assoluto. Non ho mai trovato questo tipo di calzini in nessun altro posto al mondo. Solo su questo sito di Sporting Shoes e questi calzini sono l'Iyer State. Un colore un po' sgargiante, un po' vivace. 5 paia, 10 euro, intorno ai 10 euro. Ma devo dire, li ho provati già altre volte e sono calzini semplicemente fantastici, consigliatissimi. Comprateli perché non c'è niente, secondo me, di meglio al mondo. Questa volta ho provato la variante un po' più alta alla caviglia. Sono molto morbidi, imbottiti nelle parti strategiche, quindi nelle parti dove possono provocarsi, derivare, che possono essere inceppatissimo. Niente, sono calzini dove hanno dei rinforzi morbidissimi nelle parti strategiche per impedire il sorgere di vescicole e cose varie, insomma, antipatiche per i nostri piedi. Straconsigliati. Bene, procediamo all'unboxing invece delle scarpe. da donna, questo paio, e da uomo, in grigio scuro. Vediamo la donna a quale abbiamo preso. Wow! Wow! Bellissime! Queste sono l'Isabella. Guardate, sono uno spettacolo, pagate addirittura a 50 euro da 160 euro. Anzi, non 50 euro, che dico, 48 euro. Per questo modello di Sauconi Wide ISO, modello super tecnico, con il supporto plantare, la suola Everrun, quindi una suola super ammortizzata, super reattiva, comodissima, e devo dire anche dall'estetica superba, dall'estetica davvero cattivante in questa colorazione, bianca nella parte alta e lilla nella soletta. Bellissime! Molto fashion, ma soprattutto molto tecniche, davvero ottime per correre. E adesso il paio per il vostro caro Man Wow! Sempre Sauconi, questa volta, il modello che vi presento è la Hurricane ISO 5, l'ultimo modello delle Hurricane, modello top di gamma della Sauconi. Anche qui, modello super tecnico, suola Everrun, supporto plantare per chi soffre di iperpronazione, suola super ammortizzata e reattiva, e con queste scarpe potete andare a correre anche la maratona. Esteticamente, forse sì, sono più carini quelli della donna, però qui c'è tanta tanta sostanza, c'è tanta tanta qualità. C'è questo plantarino, abbiamo una soletta estraibile. Insomma, queste scarpe ci supporteranno nelle nostre corse, nella nostra attività sportiva quotidiana, ma saranno anche comodissime se si utilizzano in viaggio per essere esploratori metropolitani. Bene, amici di Men Wow, queste scarpe io le ho acquistate con il 58% di sconto da 180 euro a 75 euro circa. E devo dire che non ho trovato un prezzo più basso sul web. Sauconi è una garanzia. Amici, fate tanto sport, non c'è niente di meglio al mondo, scegliete solo il meglio per i vostri piedi, e memento, audere, sempre! Un abbraccio amici di Men Wow, a presto!